Roberto Trincheri, Presidente della Croce Bianca, oggi tutti i volontari qua davanti alla sede della Croce Bianca in Piazza Roma a pulire Piazza Roma. Perché questa iniziativa? Come mai avete scelto di fare una pulizia fai da te? L'iniziativa è partita sul suggerimento di alcuni dei nostri militi che ha visto altri cittadini in prima persona prendere la scopa e andare a pulire. È un'iniziativa che non deve essere intesa come un'iniziativa polemica ma un'iniziativa costruttiva perché noi siamo appunto per cercare di dare una mano al di là di quello che facciamo regolarmente, quindi il soccorso sanitario. Noi siamo qua per cercare di renderci utile, stamattina lo facciamo con le scopa e di solito lo facciamo con l'ambulanza. Ho piacere infatti vedere comunque sia la presenza anche dell'amministrazione che è stata una sorpresa, stamattina li abbiamo visti in sede qui da noi, a partire dal vice-sinnato a Giagarella arrivare all'assessore Podestà, anche loro armati di scopa e cerchiamo di contribuire appunto questa mattina facendo le pulizie in zona Piazza Roma e zona Via 27. Buon lavoro! Grazie! Grazie!